ho messo sotto il viewport con il defer e il placeholder vabbè ok semplice no? andiamo a completare? allora andiamo a completare ci manca l'editor no? quando vogliamo fare la creazione di un nuovo post ma ormai siete diventati pratici cosa dobbiamo fare? la prima cosa che dobbiamo andare a fare è le nuove action quindi sul feed che andremo a fare on new post due punti e qui che cosa ci serve? se andiamo a vedere il nostro article service andiamolo a vedere ci serve quando andiamo a creare un nuovo post eccolo qua un new article dto quindi i new article dei punti new article mentre non funziona new article dto andiamo a importarlo lanciamo il dispatch del nuovo post di ritorno ci dà un article response che è l'articolo ci dà l'articolo l'articolo response ok quindi qui ci possiamo fare post created due punti due punti article article created due punti article response niente non ce la posso fare article response o undefined quindi e creation new post failed il ta non li chiamo così faccio così guardate create new post poi create new post success create new post failed empty props quindi abbiamo creato le nuove tre action andiamo nel reducer e qui facciamo on feed actions punto create new post virgola state ora ricopiamo lo stato precedente qui c'è l'isloading vabbè usiamo sempre la stessa anche se non è proprio sarebbe da creare una nuova property che volete facciamo creiamo una nuova property is updating ad esempio is creating lo lasciamo così nel frattempo io vado a creare anche la on per il nuovo post l'isloading l'isloading c'è article created ok qui adesso abbiamo il nuovo articolo creato che facciamo intanto prepariamoci return quindi cloniamo lo stato precedente che ci viene passato ma gli articoli e qui facciamo cost articles che ci vengono forniti dallo stato articles ovviamente article deve essere definito quindi nel caso in cui sia undefined run array vuoto quindi abbiamo clonato e qui articles speriamo che siano ah no questo è article questo un article non è un article response vabbè articles punto push che cosa lui vorrebbe un article ma io c'ho un article created e ovviamente ok qui avremo tutto quanto a definire l'article perché lo stato non è su article response ma è su un article complessivo quindi proviamo a darlo a creare user name article created ah qui addirittura abbiamo article created author no ma aspettate un attimo no 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 article created è article response quindi qui mettiamo article created punto usate un secondo secondo article created è un article response quindi if article created a questo punto negli articoli facciamo il push di article usci di article created article created l'article credito dell'articolo adesso qui ho fatto un po di confusione ragazzi punto punto perché non gli piace argomenta art che adesso si nota signo il tuo article è perché ha bisogno di un article qui che l'articolo è spesso non è un article quindi autor due punti quindi user name article created facciamo così cost a uguale article created article created se no quindi qua abbiamo appunto autor punto user name e di vero possiamo fare così punto 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 a punto autor ovviamente qui è se crede sia giustamente perché facciamo così come se gli piace no perché perché questo qui è definito il problema è che l'autor qui è col punto di domanda mentre l'autor qui è senza il punto di domanda giustamente e come facciamo? ah facciamo così, vediamo un attimo se tagliamo e le impie via questo ci serve anche per le altre property allora, allora, vediamo un attimino come possiamo cambiare per velocizzare perché volevo farvi vedere questa cosa e ok vediamo un attimo se article il back end è uguale ad article response mi sembra di sì, c'è lo slug c'è il title, description il body, created, adapted, adapt tag list, author, favorited favorite count, perfetto quindi article extends article response ok così non dobbiamo cambiare più di tanto e quindi qui a questo punto possiamo fare ah ok avete capito cosa abbiamo fatto? allora qui mi dà questo errore perché che c'era nel tag list no, nel tag list c'è solo che qui viene finito come punto di domanda facciamo così vediamo vediamo article article ok facciamo il contrario va no, ci abbiamo troppi errori diciamo così extends article ok qui adesso mi dà alcuni diciamo errori perché non c'è più bisogno del punto di domanda in realtà non è proprio la cosa da fare però lasciata una passare se no qui stiamo tutta la serata a fare questa cosa quello che mi premeva era quando il post è creato il back end ci dà già l'articolo creato e quindi noi qui che facciamo facciamo che quando c'è il create new post access quindi c'è l'article creato aggiorniamo lo stato mettendo gli articles uguale a quelli precedenti più quello pushato quindi articles andiamo a vedere che succede andiamo a fare il sign in andiamo a alloggarci facciamo la login come vedete qui ha fatto i vari load cancelliamo il tutto nel redax qui siamo arrivati fino a qui andiamo a fare un nuovo post qui mettiamo titolo descrizione qui mettiamo così andiamo a fare la create ovviamente non ha fatto nulla perché nell'editor dobbiamo fare il dispatch della post no quindi andiamo nell'editor andiamo qui nel create qui c'era il post new articles sbagliato perché adesso useremo ngrx quindi questo lo togliamo qui iniettiamo lo store di store di store ricreiamo l'oggetto qui facciamo this punto store punto dispatch feed actions punto create new post e che passiamo new article andiamo riprovare a fare il test ci logghiamo new post titolo ngrx ngrx e qui ci mettiamo un bel body facciamo la create ha fatto la create ma si è fermato lì si è fermato lì andiamo a vedere il perché si è fermato alla create e dopodiché non ha fatto il dispatch quindi andiamo a vedere il nostro feed feature abbiamo fatto e certo non abbiamo fatto il feed abbiamo fatto il reducer e ci manca il servizio quindi qui create new post uguale create effect this punto action punto pipe a questo punto off type di che cosa è di feed actions punto create new post switch map che cosa qui avremo e se vi ricordate nel create new post andiamo a vedere create new post abbiamo new article quindi new article qui dobbiamo fare this article service punto post new article il body è body due punti new article anzi senza così era new article e basta dopo di che abbiamo res if res return feed actions punto create new post success con article created due punti res altrimenti return feed actions punto failed andiamo a sistemare il codice e quindi abbiamo creato l'effets anche per la creazione del nuovo post andiamo a vedere ragazzi ragazzi google di domburi facciamo la login new post ngrx descrizione ngrx qui ci mettiamo un corpo create ha fatto il create ha fatto il success ma la cosa più carina è che se andiamo a vedere il diff tra vedete ha aggiornato anche articles e quindi significa che anche qui adesso purtroppo lui carica il feed no perché ogni volta che va qui va a ricarica il feed ma ce l'avrebbe già è aggiornato quindi avremmo aggiornato anche la nostra pagina già con il nuovo articolo che passava che ci veniva passato dalla post un'ultima cosa sull'effets è quando desegno